Un lavoro nato da un incontro in un luogo particolare e in condizioni e coincidenze irripetibili, oltre alla coscienza. L'origine è il desiderio di Corrado di una sua immagine in ceramica mentre suona il violoncello. La scelta è dalla piazza della cattedrale di Otranto con le luci dorate della notte sulle candide pareti della cattedrale, le riprese della scena da parte di amici meravigliosi. Un frame cristallizza, perde la leggerezza, maioliche lustri per la luce di quella notte. Grazie a tutti.